o sarà invece un grosso problema. Per Freud invece lo sapete benissimo che lui il problema dello svezzamento lo prende in considerazione ma questo discorso che c'è l'altro essere umano, che l'altro sesso c'è, non lo prende minimamente in considerazione, lui parla della fase anale con tutta l'educazione sfinterica che secondo lui è molto importante per la formazione del carattere e poi secondo lui necessariamente arriva la fase tipica di cui vi ho già parlato. Quindi i modelli psicodinamici sono completamente diversi. Io francamente penso che rispetto a questo problemino che figuriamoci nella Metteleuropa del Novecento era ovviamente da caserma, vai sul vasetto, non vai valsetto, schiaffi di qua e di là, d'accordo sarà pure un problema ma generalmente umano credo che sia ben più importante che noi abbiamo questo fatto che c'è sempre un altro sesso e questo in Freud non appare proprio e si sposa anche abbastanza, lui non aveva tutti questi grandi rapporti con le donne e tutto sommato. E vi ho già detto che secondo quello che dicono anche gli antropologi in maniera crescente, l'edipo non è una figura, non è un modello diciamo che si incontra in tutte le civiltà. In molte civiltà è assolutamente impensabile e a nostro parere clinico additura è un caso patologico. Vi ho detto in maniera abbastanza brutale un uomo che nella scelta della sua partner è eccessivamente condizionato dalla madre non ha semplicemente ogni tipo è accettuato, quindi è fisiologico però insomma un po' tanto. No, ha un grosso problema di non essere riuscita a liberarsi da una madre che probabilmente era notevolmente ingombrante nella sua infanzia. Quindi è come dire additura che rischia di rendergli impossibile il rapporto con l'altro sesso. Con questo chiudo definitivamente, se avete domande molto volontieri, poi direi facciamo una pausa, la solita pausa caffè e sigarette e poi invece lascio molto ma molto volontieri la parola alla professoressa. Io avevo una grande angoscia oggi di vedere quanto ci fosse la partita, però è alle 8 quindi possiamo lavorare fino alle 6 ma comunque quindi in quarto d'ora di pausa e poi vediamo. Ho presentato la professoressa, tra l'altro la professoressa Panzera che nasce grande studiosa di Caravaggio, viene dalla Puglia e quindi come dire mi è sembrato bello cercare di convincerla di raccontarci qualcosa qui mentre la professoressa Baballi come sentirete sicuramente viene dalla Toscana, forse da Florenze io la conosceva come egregia anglista e studiosa del rock, però oggi ci parlerà invece della letteratura francese e forse appunto di cose decisamente inedite. Loro due si sono concordati quindi ci faranno una lezione intrecciata in cui parla l'una e l'altra e vedremo anche appunto credo un ricco corredo di immagini e anche di poesie. Prego. Grazie. Sentite, sì, è abbastanza alto. Allora, oggi dovremmo parlare di rapporto uomo-donna nelle arti visive e nella letteratura e quando si parla di rapporto uomo-donna è facile che la ricerca si avvii, cerchi di comprendere che cosa queste due entità rappresentino l'una per l'altra, cioè ci interessiamo soprattutto del verbo rappresentare con tutta la sua connotazione visiva, il che significa che questo ci autorizza da una parte a divagare nel mondo dell'arte e dall'altra anche a pensare a che cosa le immagini, i soggetti maschili e femminili abbiano rappresentato o perlomeno come le donne e gli uomini si sono rappresentati gli uni per gli altri. E attraverso queste rappresentazioni dovremmo riuscire a capire anche che cosa è stato l'innamoramento nella storia, che cosa significa innamorarsi per un corpo diverso, da dove nasce questo mistero e perché improvvisamente da esseri interi ci cominciamo a sentire la metà di altri. E allora vediamo che frotte di artisti si mettono all'opera e ci sono i pittori che subito si mettono a dipingere tentando di cogliere il colore delle vene sottopelle dell'amata. I poeti scrivono meravigliose poesie, gli scultori addirittura piegano il marmo a prendere tutta la delicatezza, la pienezza della carne viva e la storia ci offre milioni, forse anzi miliardi di una narrazione che praticamente non ha mai fine. Però non è tutto così semplice perché per esempio ci si possono fare tante domande, ci si può chiedere come mai gli artisti siano uomini, tanto per cominciare. Ci si può chiedere perché le immagini non sempre siano così veritiere, cioè non sempre poi narrino del reale rapporto tra uomini e donne. Oppure per esempio talvolta quando ci occupiamo di arte scopriamo che l'arte non è solamente quello che rappresenta, cioè che il significato delle immagini talvolta non è evidentissimo, ma dobbiamo andare a cercarlo nel modo con cui l'arte si è presentata ai nostri occhi. Quindi dobbiamo fare molto affidamento sulla nostra intuizione, quando addirittura non sulla nostra immaginazione, cercando di capire che cosa significano queste forme così eterogenee, così diverse da epoca ad epoca. Quindi il discorso rischia di diventare molto complicato e per non intrecciarci troppo oggi ne prenderemo solamente un filo cercando di svolgerlo e guarderemo moltissime immagini che attraversano tutte le epoche e attraverso queste immagini cercheremo di capire come gli uomini e le donne si sono rappresentati e che cosa hanno rappresentato gli uni per gli altri. E partiamo subito da qui, partiamo dall'epoche più antiche, dalle immagini del paleolitico e del neolitico, dove la figura di donna non è solamente una figura di donna, ma in verità rappresenta una vera e propria visione simbolica del mondo, dovremmo dire. Ne troviamo di tutte le forme, di tutte le fogge, sono queste cosiddette veneri primitive che passano dall'essere eccessivamente prosperose come questa venere di Willendorf a forme un po' più misteriose come per esempio la dama nera di Sefar che è stata scoperta in una grotta di Tassili, una località che si trova nel Sahara. Oppure ancora come le immagini che sono a fianco e rappresentano cinque fanciulle insieme ad un bue sacro, sacro è quello che dicono gli archeologi, noi non lo sappiamo, è questo dio serpente. Queste immagini ci parlano di civiltà estremamente remote, qualcuno ha parlato di civiltà matriarcali, dove non solamente la donna occupava un posto di rilievo all'interno della società tribale, un posto probabilmente pari se non superiore a quello dell'uomo, ma era soprattutto la donna considerata l'immagine stessa della vita umana, ma distinta da quella delle altre specie, in questo suo rigenerarsi continuo, che era un rigenerarsi non solamente biologico, ma un rigenerarsi intrinseco alla capacità anche di immaginare, è stato già accennato questo termine, capacità di creare, di immaginare, di essere e di sognare, qualcuno ha ipotizzato che gli artisti dell'arte preistorica fossero proprio delle donne e quindi di vivere pienamente sia nelle necessità quotidiane e sia anche forse nella libertà di una sessualità tutta libera, umana e pienamente realizzata. Siamo, potremmo dire, nell'età dell'oro, quella in cui la razionalità si mescola con l'irrazionalità e le pareti delle grotte si coprono di queste pitture affastellate in un disordine apparente che in realtà invece per noi rappresenta il fluire libero di un pensiero che non è diviso dal sentire. Potremmo dire che è il tempo di Psiche, che è ancora in Omero, quindi al tempo in cui fu scritta l'Iliade, è intesa come tumos, come io vivente, come sangue, respiro, persona, niente affatto distinta dal soma, niente affatto distinta dal corpo. In Europa questa civiltà si interrompe quando sopraggiunge la civiltà ellenica e poi successivamente quella latina. Eraclito, che è un filosofo appartenente al VI-V secolo a.C., per esempio, già nega il valore dei sogni. L'Ellade crea le città, le polis, e le organizza secondo il logos dei filosofi. Socrate, un nome che credo tutti conoscete, separa il pensiero dal corpo e costruisce una sorta di aritmetica morale che serve, secondo lui, a sottrarre l'uomo alla paura di essere soggetto alla passione. Aristotele addirittura dice che l'uomo in passione è simile all'ubriaco, quindi a colui che non ha nessuna coscienza di sé e che addirittura rischia di farsi male. E nella religione greca entrano anche dei nuovi dèi, che sono per esempio diche e edo, che tradotti significano giustizia e vergogna. E in questo mondo le donne non hanno posto. Sono solamente fattrici della specie, sostanzialmente. Il loro cedere piuttosto facile alla irrazionalità le relega in una solitudine che è quasi considerata patologica, maligna, dove il tumos, la psiché, è la radice delle azioni peggiori dell'uomo e dove la voce dei poeti non ha più un valore rivelatore. Può essere solamente un simbolo, una rappresentazione di qualche cosa che l'uomo deve conoscere ma per tenerla lontana e gli effetti della passione decantano nelle immagini del mito. Un mito importante per esempio è quello di Apollo che di solito viene conosciuto come il dio della saggezza, della razionalità anche, ma originalmente non era così. originalmente Apollo è un dio sfrenato che fa atti efferati e che in questa efferatezza è accompagnato dalle muse, anche quelle, le divinità che solitamente sono conosciute perché accompagnano le arti. Quando poi, giunto all'età della ragione, appunto, incomincia a utilizzare la sapienza, allora induce, chiede alle muse di abbandonare il monte e l'icona e di ritirarsi a Delfi. Qui doma la loro furia selvaggia e insegna loro danze decorose e garbate. E l'arte cambia. L'arte non è più quella che noi conosciamo cosiddetta arcaica ma diventa invece questa. L'arte che celebra una bellezza diversa, perfetta, ma certamente più pudica. La bellezza pudica di Afrodite, che pure è idea dell'amore. Oppure l'austerità di Atena o la grazia di Nike. Rimane solamente, rimangono, le menadi. Le menadi, che sono compagne del fratellastro di Apollo, cioè Dioniso, e rimangono loro a stravolgersi in danze orgiastiche, con il volto dipinto a strisce colorate, le braccia e le gambe tatuate, con la testa e i capelli lanciati continuamente avanti e indietro in una danza che deve portare alla fine allo sfinimento. Emulate talvolta nei riti dionisiaci da donne in carne e ossa, ovviamente esclusivamente in alcuni periodi dell'anno, le menadi sono l'immagine della passione che senza freni può condurre alla morte e alla distruzione. Addirittura si narra che esse divorino i corpi degli uomini, dei compagni coinvolti nelle loro stesse danze, nei loro stessi riti. Ma noi qua ci dobbiamo trovare a parlare di arte. E allora, prima di andare avanti nel nostro discorso sulla mitologia, forse è bene soffermarci sulla capacità che ha avuto lo scultore, autore di questa statua, che si chiama Scopas, a rappresentare questa menade. Socrate diceva che conviene che lo scultore rappresenti in forma visibile le operazioni dell'anima. E se voi mi permettete, io qui farei una piccola divagazione per capire in che modo l'arte deve essere usata, in che modo anche l'arte deve essere letta. perché non la possiamo prendere solamente come documento visivo di un racconto che è esterno all'arte stessa, ma dobbiamo cercare di entrare nel suo linguaggio, dobbiamo cercare di entrare nella sua specificità. Il suo legame più apparente che reale con l'arte dell'imitazione invece che della creazione, ha fatto sì che l'arte visiva, per esempio, non avesse neanche una musa. Non ci sono muse della pittura o muse della scultura. E ancora oggi a volte si confonde la critica d'arte con la ricerca delle relazioni che legano l'arte ad altri fatti, come la politica, la storia o che so io. E certamente tutto è importante. Ma come dicevo prima, non dobbiamo concludere la storia dell'arte nella storia delle sue relazioni. E per dare, per spiegare meglio che cosa vorrei dire, mi rifaccio alle parole di un vecchio critico d'arte che era Joel Elias Spingarn, un critico addirittura del 1911, che scriveva così. Io risogno il sogno del poeta. E se può sembrare che io scriva questo alla leggera, dirò che lo risogno perché appunto mi sono svegliato. E sorrido nel pensare di aver confuso il sogno con la realtà. Per mio conto, dunque, mi sforzo di rimettere un'opera d'arte accanto alle altre. L'arte può trovare il suo alter ego solo nell'arte. E se allora noi proviamo a sognare il sogno di questo artista, di Scopas appunto, possiamo vedere che questa menade, anche se frammentaria, parla il linguaggio stesso del soggetto raffigurato. è una sfida all'equilibrio dell'arte classica, quella che abbiamo visto prima nelle statue precedenti, a favore invece di una espressività estremamente accentuata. L'armonia e l'equilibrio vengono sacrificati, forzati, per fare esplodere una immagine intensa che non teme di rappresentarsi o dimostrarsi sconvolta e di comunicare interne sensazioni. Il movimento di questa statua non nasce da un gesto atletico, come accade nell'arte classica che è più conosciuta, ma da una forza interiore. Quasi non sono i muscoli, ma i nervi a dettare le posizioni e le contrazioni del corpo. Come si vede, per esempio, nel collo teso, e la torsione che questa menade prende sembra quasi di natura psicologica. La veste sottile che si scompone sul fianco, si apre, è trattata con una leggerezza pittorica come un tocco di delicatezza che in un certo senso contraddice invece le trapanature che rappresentano le ciocche dei capelli che ricadono pesanti sulla schiena dell'amenade, molto più coloristiche, molto più forti. L'amenade di Scopas è una delle figure più vivaci di tutta l'arte greca ed è una donna a mostrare una fisicità piena e travolgente, ma l'espressione del viso tradisce insieme emozione e terrore. Facciamo un salto enorme, ma un filo diretto lega l'arte antica al rinascimento. Il pensiero, il gusto del rinascimento attinge alla cultura classica e la innalza al suo modello nonostante nella società molte cose siano cambiate, tra cui anche il ruolo della donna che diventa più autonoma, comincia ad accedere anche ad ambiti che prima non le erano concessi, come per esempio la politica, persino la guerra, e anche però la letteratura e l'arte. E qui un quadro notissimo. L'immagine femminile ideale che questa Venere rappresenta è al centro di molta produzione pittorica e scultoria, ma la Venere di Botticelli rimane distante dalle passioni degli uomini e il rapporto perfetto non è quello sensuale tra l'uomo e la donna, ma è quello platonico che può essere ulteriormente purificato anche da una morale religiosa sempre più interessata a definire e influenzare sia gli affari civili e sia quelli privati. D'altra parte il Rinascimento, lo si sa, è il secolo della prospettiva, è il secolo in cui teorici come Leon Battista Alberti o Piero della Francesca costruiscono uno spazio innaturale, anch'esso simbolico, ma simbolico di che cosa? Simbolico dell'organizzazione intellettuale e razionale del mondo, che è maschile. Ancora una volta questo non è luogo per donne, a meno che esse non accettino di essere lo specchio di questo cosmo maschile, impersonale e talvolta anche un po' malvagio. Nel doppio ritratto di Federico da Montefeltro, Duca di Urbino e Battista Sforza, questa realtà del rapporto uomo-donna è piuttosto evidente. Questi due ritratti originalmente erano incernierati, erano uniti e costituivano una specie di libretto sul fronte del quale c'erano i cosiddetti trionfi. I trionfi erano praticamente dei carri allegorici, delle rappresentazioni allegoriche che presentavano i due protagonisti su carri accompagnati dalle virtù, dalle doti che più li contraddistinguevano. Il Duca di Montefeltro era accompagnato dalle virtù cardinali, che erano quelle che fondavano l'agire cristiano, mentre Battista Sforza era accompagnata dalle virtù teologali, cioè quelle che assicuravano una stretta relazione con Dio e, come posso dire, una forte tendenza, una forte dedizione verso un ideale di purezza assoluta, rappresentato peraltro dal liocorno che trainava il carro stesso. La cosa particolare è che questo oggetto non era destinato all'ammirazione pubblica, quindi non doveva costituire una sorta di passaporto per i due protagonisti nei confronti della società in cui essi vivevano. Era invece un oggetto privato e sconcerta abbastanza il fatto che la rappresentazione dei due personaggi rimane e continua ad essere una rappresentazione assolutamente sociale, cioè del sistema di relazioni che loro intessono ai fini di una loro affermazione pubblica, fondamentalmente, dove anche la relazione uomo-donna deve essere una relazione funzionale ad una ascesa all'interno di una scala sociale gerarchica. I profili su cui i due personaggi si stagliano sono quelli dei possedimenti di Federico da Montefeltro e tra i due, nonostante queste strette relazioni di cui vi ho appena detto, non esiste neanche un filo di sentimento. Non c'è un affetto che lega i due personaggi, ma c'è solamente una affermazione individuale. Bisogna attendere un po', bisogna attendere l'inizio del 1500 perché in altre zone d'Italia la cultura ceda a suggestioni diverse. A Venezia, per esempio, nel 1500 emerge un genere artistico, pittorico, completamente nuovo, oppure raramente praticato nei luoghi più famosi dell'arte e questo genere nuovo è il ritratto femminile. Con il tempo questo diventa sempre più indirizzato verso la rappresentazione concreta, realistica del personaggio, però i primi esempi di questo nuovo genere affrontano il tema dell'idealità in una maniera abbastanza singolare. Qui abbiamo due ritratti, uno di Sebastiano Luciani che altro non è che Sebastiano del Piombo, di cui si sta adesso tenendo una mostra a Roma e l'altro il celebre ritratto di Raffaello Sanzio della Fornarina. Gli elementi del mito in questo caso si mescolano con quelli dell'invenzione pura, creano addirittura delle allusioni abbastanza surreali, inducono l'osservatore a immergersi in atmosfere piuttosto rarefatte, vespertine, misteriose, in paesaggi che quasi cercano di alludere o celano un'umanità alla ricerca di sé. Queste immagini si chiamano, vengono definite a quel tempo immagini d'amore e nell'apparente imitazione di volti veri trovano una strada per dare forma al mondo invisibile che si affaccia dallo sguardo degli esseri umani. è la prima volta che le donne vengono ritratte per quello che sono davvero non perché debbono rappresentare delle madonne e tantomeno i loro volti sono idealizzati nel senso di resi impersonali. D'altra parte nelle teorie artistiche del tempo imitare e ritrarre non sono la stessa cosa e il primo termine cioè il termine imitare diventa più importante del secondo perché non si pensa ad una imitazione nel senso di prendere esattamente il volto dell'altro e riportarlo sulla tela ma si pensa invece a una imitazione dell'idea interiore cioè una imitazione di quello che non è immediatamente visibile ciò che l'artista vorrebbe rendere cosicché è vero che questi volti non sono quelli forse di donne completamente reali vere ma mettono insieme una realtà fisica personale e anche un'idea di questa donna di che cosa questa donna deve aver rappresentato per l'artista l'immagine reale e l'immagine ideale si fondono diventano tutt'uno e sono come potete vedere molto diversi dalla venere di Botticelli che abbiamo visto prima che invece di reale sinceramente aveva molto poco ed era anche peraltro questo un tratto sottolineato dal fatto che la venere si poggiava su una conchiglia in un equilibrio assolutamente instabile che non avrebbe potuto essere nella realtà e questa è una chiara allusione dell'artista al fatto che la sua immagine non è un'immagine vera non è un'immagine di donna è un'immagine di idea queste invece sono immagini di donna quindi tornando un attimo al discorso di prima sembra che almeno nell'arte in qualche modo l'idea originaria di psichè cioè di unione di corpo e mente possa continuare possa venire nuovamente a porsi in essere nella fanciulla romana di Sebastiano del Piombo ci sono delle cose che indicano dei messaggi particolari per esempio la donna guarda direttamente negli occhi l'osservatore e questo è un esplicito richiamo è un'esplicita richiesta di rapporto le dita l'indice e il medio sono aperte a V sul cuore ed è una richiesta d'amore ma è anche una dichiarazione d'amore una cosa che non sempre si vede molto spesso nell'arte antica la luce dorata poi avvolge tutto tutta l'immagine in un'atmosfera incredibilmente bella e possiamo forse dire che la bellezza mai come in queste immagini è stata rappresentata con tanta consistenza le analisi fatte su questo dipinto poi hanno rivelato che in verità lo sfondo che noi vediamo non era stato pensato così all'origine in origine doveva esserci una siepe dall'oro dietro l'immagine della donna e la loro come voi sapete allude all'aura cioè alla donna petrarchesca alla donna ideale che non è esattamente la donna angelo dell'epoca medievale non è la donna angelo di Dante ma è pur sempre una donna per la quale l'artista deve provare un sentimento piuttosto relegato nel suo animo che non vero che non sensuale che non concreto anzi è un sentimento impossibile che diventa tanto più virtuoso quanto più è impossibile cosa che invece non esiste più nel ritratto di Sebastiano nel piombo c'è invece nel ritratto di Raffaello che è di poco successivo Raffaello qui raffigura Margherita la fornarina la sua amante è vero che mette le foglie da loro dietro lo sfondo sullo sfondo però scopre completamente il busto e in un certo senso riporta la donna alla sua realtà vera fisica anche se poi il nostro Raffaello in qualche modo ci rassicura non vuole essere troppo conturbante non vuole troppo rappresentare una turbativa per lo spettatore e che cosa fa? mette la sua donna un anello da sposa purtroppo nella diapositiva non lo si vede molto chiaramente ma è un anello che sta sulla falange della mano della mano sinistra e soprattutto le mette questo bracciale sul braccio sinistro dove è inciso il suo nome per dichiarare il possesso indiscutibile della fanciulla in questione firmato lei è firmata più che il quadro insomma tutto sommato il ritratto di Sebastiano ci sembra più intrigante e sembra anche riecheggiare alcuni versi di un amico artista di Sebastiano famosissimo che è Michelangelo Buonarroti il quale si dilettava di scrivere rime e che tra le tante che ne ha scritto dice anche se tu incateni altrui senza catena e senza mane o braccia mai raccolto chi mi difenderà dal tuo bel volto insomma mentre Sebastiano dipinge le sue immagini d'amore che poi però abbandonerà quando arriverà a Roma e dovrà essere a contatto con un ambiente molto più restrittivo e soprattutto con la controriforma vediamo anche che Tiziano suo coetaneo e conterraneo passa a fare queste opere che sono un concerto campestre e la rappresentazione di amor sacro e amor profano leggiamole nella prima nel concerto campestre qualcosa di strano alleggia nella composizione ci sono due uomini vestiti e due donne nude ma non è tanto questo lo strano lo strano è che i due uomini vestiti non guardano affatto le due donne nude sono assolutamente concentrati l'uno sull'altro e allora che cosa dobbiamo pensare forse che le stanno sognando oppure che loro che queste due figure nude in verità sono solamente immagini che poi verranno tradotte nella musica dell'uno e nel canto dell'altro sono immagini ideali oppure sono semplicemente idee rappresentate con un corpo di donna di certo come vediamo poi nella figura successiva cioè scusatemi nella figura sottostante l'amore nel rinascimento rimane uno simoro cioè rimane diviso ancora fra bene e male fra purezza e sensualità piacere e dolore insomma una pericolosa combinazione di opposti che Tiziano dichiara quando tra l'amor sacro e l'amor profano mette fa sedere le due figure su un sarcofago che è una chiara allusione a un'immagine di morte più la seduzione e la passione irrompono più gli amanti sono destinati a essere infelici ad essere l'uno la morte dell'altro passa il tempo cambiano i miti dall'idiglio campestre si passa alla tragedia così come nella storia i tempi divengono cupi a causa della intransigenza religiosa della chiesa cattolica e anche della chiesa protestante che caratterizzeranno tutto il 1500 e il 1600 e i pittori in questo periodo amano un mito particolare che è il mito di Atalanta e ve lo racconto molto brevemente la leggenda narra che Atalanta la giovane figlia di Scheneo evitasse le nozze perché le era stato fatto un vaticinio funesto qualcuno le aveva detto che sarebbe rimasta se stessa ma avrebbe cambiato forma e così lei allontanava tutti i pretendenti da sé con gare di corsa in cui la sconfitta significava anche la morte la morte per il perdente e nessuno d'altra parte poteva vincerle perché lei era prodigiosamente veloce tuttavia il giovane Ippomene la guarda se ne innamora e decide di affrontare la sfida sorretto da venere si mette in gara con Atalanta che peraltro rimane colpita dal giovanissimo fanciullo ne rimane colpita per il grande coraggio che lui dimostra ma anche per l'enorme bellezza tant'è che le si prospetta forse la possibilità anche per lei di potersi innamorare i due gareggiano e Ippomene ha una piccola un piccolo trucco ha tre pomi d'oro che le sono stati dati da venere e che lui getta durante la corsa Atalanta incuriosita e soprattutto desiderosa di possedere questi pomi d'oro si china a raccoglierli perde tempo e quindi perde la gara finalmente Atalanta deve convolare a nozze ma ci sono sempre gli dei dietro e così i due giovani che dovrebbero comunque aspettare e mantenersi in un in un contesto in un'attesa ancora di quello che dovrebbe essere il culmine del loro neonato amore invece cedono alla passione e proprio sulle soglie del tempio sacro a Giunone hanno un rapporto amoroso travolgente Giunone vendicativa come tutte le madri posso dirlo non lo so decide di punirli decide di punirli in questo modo trasformandoli in leoni così che i due non potranno mai più avvicinarsi senza sbranarsi quando nei 1620 Guidoreni rappresenta questo questo quadro lui si sofferma sulla scena culminante della della corsa ci racconta che Atalanta rappresenta lo sguardo dell'anima che si sofferma sulle cose belle e nuove simboleggiate dai tre pomi d'oro ma Eros bellezza e verità ancora non riescono a fondersi Eros è ancora una belva feroce Lascio la parola ad Alessia Quando le desir ferme in un soir chaud d'autom Io rispire l'odore di ton sang chaleure Io vedo se derrulli dei rivaggi heureux che bluisse le fai d'un soleil monotone Un'ile paresciosa dove la nature donne dei arbre singoli e dei fratelli savore Des hommes dans le corbe mince e vigore e dei femmes dont l'oeil passe a franchise e ton guidé par ton odeur e dei charmant climat Je vois un port rempli de voile e dei ma ancora fatigué par la vague marine pendant che le parfum de verte marignée che circulano dans l'air e m'enfile le narine seme da mon am rochand de marignée questa lettura che adesso ho fatto in francese che poi più avanti rileggerò in italiano serve in realtà per introdurci in un altro campo di ricerca noi fino adesso abbiamo visto come a livello iconografico il rapporto uomo donna sia stato rappresentato nelle diverse epoche della storia proviamo adesso invece a fare un passaggio di codice cioè passare dal linguaggio delle immagini al linguaggio verbale che però parla sempre di immagini cioè il linguaggio dei poeti dunque nelle varie rappresentazioni che abbiamo visto ci siamo accorti come il concetto di passione nel rapporto uomo donna torni fuori spesso sia piuttosto ricorrente e in effetti nell'immaginario di ognuno di noi la passione è una parola che è strettamente legata al rapporto d'amore un rapporto travolgente convolgente e quindi soffermiamoci un attimo a vedere quando questa parola passione si è caricata di questi significati ora la parola passione ha un'origine molto antica deriva dal greco significa sofferenza pena travaglio forte commozione dell'anima ed è stata utilizzata anche in modo importante dai filosofi nel corso dei secoli a partire dai filosofi del quinto secolo avanti Cristo Platone Aristotele però quello non è l'ambito del discorso che ci interessa perché in realtà quello che vorremmo fare adesso sono delle ipotesi su come e quando questo concetto di passione si è caricato di questi significati che ancora oggi noi consideriamo appunto riferendoci alla passione amorosa dunque io direi di collocare di soffermarci sulle vicende storiche letterari e soprattutto poetiche dell'ottocento perché mi sembra che sia proprio in questo periodo che le immagini intorno alla parola passione cominciano a prendere quel corpo che poi tutt'oggi noi riconosciamo allora intanto consideriamo che la passione è uno dei concetti fondamentali del romanticismo che appunto si sviluppa proprio nella prima metà dell'ottocento e proprio nel romanticismo emerge e si consolida un modello d'amore che avrà una grande fortuna in termini di diffusione che è per l'appunto l'amore romantico ora cerchiamo di vedere però come questo concetto di passione e il modello d'amore romantico a un certo punto si incontrano cioè dove e soprattutto come si incontrano non è un caso che io abbia iniziato leggendo una poesia in francese che è una poesia di Baudelaire perché si può pensare che sia proprio in realtà questo autore che si pone come ponte tra romanticismo e modernità che abbia favorito l'incontro fatale tra questi due tra amore e passione però prima di arrivarci penso sia utile soffermarci sul percorso che è stato fatto per poi favorire questo incontro e quindi ritorniamo al romanticismo ora il romanticismo che si pone all'inizio dell'ottocento appunto abbiamo una visione piuttosto drammatica del rapporto tra l'individuo e la società visione che non era altrettanto drammatica nel settecento nel settecento abbiamo Rousseau che ci propone un'ipotesi di pacificazione di questo rapporto contro